Svaliggiavano le abitazioni private dei condomini di Bardonecchia. Entravano all'interno delle seconde case, sgardinando le porte d'ingresso e mettevano a soccuadro le stanze. Con questa accusa, ieri i carabinieri della compagna di Susa hanno arrestato in flagranza di reato tre persone straniere, di cui due minori. L'arresto è stato possibile grazie alla tempestiva la segnalazione della custodia di un condominio che, sentendo rumori sospetti al secondo piano del palazzo e andando a verificare se fosse tutto tranquillo, si è ritrovata davanti tre soggetti all'interno di due appartamenti. I malviventi scoperti hanno lasciato l'area furtiva sul posto scappando giù dal balcone. Uno di loro ha anche spintonato la donna per guadagnarsi la fuga. Le immediate ricerche dei carabinieri hanno permesso di rintracciare i ladri alla stazione ferroviaria del paese, nascoste all'interno di una carrozza e pronti per tornare a Torino. Uno dei due ladri durante il furto si era addirittura vestito con l'abbigliamento trovato all'interno dell'armadio di uno dei proprietari. In prossimità del giardino del condominio sono stati trovati anche diversi mazzi di chiavi di una cassaforte, asportata presso un ristorante del centro, presumibilmente parte del bottino e dei tre catturati. Le tre persone sono state arrestate con l'accusa di furto in abitazione in concorso ed aggravato e sono state associate al carcere di Torino in attesa di giudizio. Sono in corso certamenti per verificare altri simili episodi avvenuti in tutto il territorio della Val di Susa.